L'8 marzo è la giornata internazionale della donna, così come sarà già stato detto, per ricordare le battaglie in ambito economico, lavorativo e culturale sostenute dalle donne in tutto il mondo. Come si inserisce il Coug in tutto questo? I Coug sono da sempre impegnati nel lavoro pubblico, sono nati per questo, con questo spirito, per promuovere azioni a sostegno della parità delle lavoratrici e dei lavoratori. In una giornata così importante non poteva esimersi il Coug delle aziende provinciali sanitarie ferraresi. Ed è questa una grossa novità importante. La Direzione Generale, il 1 gennaio 2023, ha istituito un comitato unico di garanzie interaziendale. Questo seguendo e andando verso le politiche di unificazione promosse dalla direzione strategica, ma ancor più importanti per questo specifico ambito, perché in questo modo si vanno a uniformare le politiche aziendali in favore della parità di genere e i relativi strumenti di monitoraggio, ed è un esempio appunto il bilancio di genere delle due aziende sanitarie, che sicuramente diventerà uno strumento unico, e gli strumenti relativi poi al monitoraggio e le azioni conseguenti rispetto alle politiche messe in campo dalla parità di genere. Un elemento qualificante del comitato unico del Coug interaziendale è quello di lavorare in sinergia con i diversi attori voluti fortemente dalla nostra direzione strategica, che sono il gender manager, e quindi tutto il team che lo costituisce, il board equità e la medicina di genere insieme al Coug. Questa è la forza che ci porta, attraverso diversi punti di vista, a vedere le politiche di genere e le azioni per promuoverle. Grazie! Grazie a tutti! Nu hayelo poco da, se vi Soft混奶 di avere unico acquiescio e beneficillare al Coug. mauro l'imperaria Grazie a tutti.